Paul Pogba è ufficialmente positivo al testosterone. Le controanalisi sul campione B svolte al Laboratorio Romano dell'Acqua Acetosa hanno dato infatti esito positivo, così come era accaduto nel controllo effettuato subito dopo Udinese Juventus del 20 agosto. Pogba a questo punto sarà giudicato dal Tribunale Nazionale Antidoping a meno che non decida di patteggiare. In caso di assunzione involontaria la pena ha un massimo di due anni, poi starà al Tribunale riconoscere eventuali attenuanti e scalare la squalifica. Se invece l'assunzione è involontaria, la squalifica è massima e dunque di almeno quattro anni. Da capire adesso cosa farà la Juventus che ha il cartellino del giocatore francese con un contratto fino al 30 giugno del 2026. Il club potrebbe decidere di tenerlo tra i suoi tesserati con una riduzione dell'ingaggio o procedere invece con la risoluzione del contratto. Pogba pesa sulle casse della Juventus per 11 milioni di euro lordi a stagione.